Quest'anno vorremmo dedicare questo evento alla riscoperta di donne dell'amartesana. Sono donne importanti per tutto il mondo, ma poco conosciute da noi. Queste sorelle Brambilla e Cassano hanno lavorato con i grandi artisti, Paolo di Rossini, Paolo di Donizetti. Oltre alla presentazione dei libri che ha scritto Cernuschi, Cittigina sulla torta, ci sarà un'interpretazione da parte di una soprano, Sara Caldo, che interpreterà delle arie scritte in questi compositori. E accompagnamento musicale sarà un'altra bravissima persona che conosciamo, che è Melody Bach, Claudia Boni. Cernuschi 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 A presto. Il nostro corso gratuito 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 Grazie a tutti